Komorebi è una parola giapponese che indica la luce del sole filtrata tra le foglie degli alberi. È qualcosa che non è traducibile in italiano e io sto studiando il giapponese, non ne avevo mai sentito parlare, sono stato anche in Giappone e diciamo che quello che ho visto in Giappone e questa parola sono due cose molto connesse e mi hanno un po' cambiato la vita. Questa parola l'ho sentita dove? L'ho sentita in un film, sono andato a vederlo recentemente e mi è piaciuto tantissimo. Non sono uno che è così tanto amante dei film, in realtà ho studiato comunicazione, quindi ho studiato la storia del cinema, ho studiato la storia del teatro, ho studiato tutto, però in realtà vi devo dire che la musica ad esempio l'ascolto ma preferisco a volte il silenzio o preferisco qualcosa che non mi alteri, quindi magari un video YouTube o quando sono in palestra mi ascolto le mie cose, però ad esempio la musica mi altra, cioè ad esempio metto la musica e so che questa canzone mi rende più triste, questa canzone mi rende più felice, questa canzone mi rende più arrabbiato, più motivato eccetera eccetera e spesso non sono stati in cui voglio essere, voglio rimanere così per anche prendere decisioni corrette eccetera e quindi ogni tanto l'ascolto ma non molto. A livello di invece intrattenimento diciamo che spendo la maggior parte del mio tempo su YouTube e quando anche devo ascoltarmi qualcosa tendenzialmente ascolto video YouTube, di tutorial, varie cose, tantissime cose e una cosa che in realtà non avevo mai preso in considerazione era andare al cinema più spesso, ultimamente invece lo sto prendendo in considerazione e ci vado. Quando guardo qualcosa magari a volte guardo anime o guardo dei film nuovi, ma ultimamente mi sto accorgendo che ci sono dei film colossali che vanno visti, più o meno da quando c'è stato il periodo del Covid in cui abbiamo avuto un po' più tempo per stare a casa, ho iniziato veramente a prendere quei film che vanno visti e ho iniziato a guardarli e mi sono pian piano innamorato anche dopo del Giappone della filosofia proprio orientale, non solo da un punto di vista estetico ma anche proprio da un punto di vista di come vivono la vita. Quando sono stato in Giappone ho notato proprio questa cosa che viene, è proprio un rispetto verso la vita che è molto diverso dal nostro, c'è una sensibilità verso la vita che confronto a noi occidentali è molto molto sottile ma molto molto bella e questa parola comorebile rispecchia in pieno. Si tratta di un film che si chiama Perfect Days, è un film in realtà semplicissimo di questo regista che in realtà ha fatto non troppi film conosciuti e è una storia così che inizia in media stress semplicissima in cui c'è questo signore giapponese che lavora come bidello, nel senso quelle persone che vanno a lavare i bagni pubblici, in realtà non sono proprio bagni pubblici, sono i bagni più conosciuti di Tokyo, sono in realtà delle opere d'arte a Tokyo ma quello che fa è comunque andare a lavare i bagni e c'è semplicemente la sua routine, giorno per giorno fanno vedere la bellezza delle piccole cose che è una cosa che avevo notato tantissimo dei giapponesi, questa umanità, questo amore per la quotidianità, le piccole cose e lo noti in tutto. In questo film era rispecchiato molto bene, a parte la sceneggiatura, gli attori, la grafica, la fotografia, tutto bellissimo, anche la colonna sonora, ma vedi proprio questo signore che non dice quasi una parola per tutto il film, che si alza, fa le sue cose, mette a posto le sue piccole passioni, la sua macchina fotografica, tutte queste piccole cose, fa tutta la sua giornata e poi arriva a casa la sera, dorme e sogna un po' queste ombre di quello che è successo un po' il giorno stesso. E durante la giornata, quando va a fare la pausa pranzo, una cosa ricorrente è che va in questo giardino in cui ci sono degli alberi e lui si mangia e a un certo punto vede le foglie degli alberi là in alto, con questa luce filtrata del sole, prende la sua macchina fotografica e fa una foto. E una volta circa a settimana, quando è il suo giorno libero, va a far sviluppare le foto e vede che in realtà sono tutte foto diverse e quindi mette quelle che gli piacciono di più da parte. Ed è un po' la simbologia del film, perché poi durante questi giorni, che non si sa in realtà quanti sono, fanno vedere che nonostante i giorni sembrano tutti uguali, in realtà ogni giorno succede qualcosina che rende la giornata diversa e quindi quasi un'avventura. Un giorno arriva la nipotina a salutarlo, un giorno arriva una persona nuova, un giorno un bacio all'improvviso di una sconosciuta, un giorno gli succede qualcosa, insomma a volte invece assolutamente niente di una giornata bella, a volte al bar incontra qualcuno. Quindi c'è la sua routine, la sua quotidianità, la bellezza nelle cose che fa e poi qualcosa che giorno dopo giorno lo porta a mescolare un po' il tutto, che è un po' la filosofia di Komorebi, ovvero queste foglie che lui fotografa, che sono ogni giorno diverse e che poi alla sera sogna, quindi queste ombre immaginarie che vede che ogni volta cambiano, è la rappresentanza di quello che viene definito con questa parola, ovvero l'impermanenza delle cose, la bellezza e la sottigliezza delle piccole cose che non verranno mai ripetute di nuovo, è prendere il momento presente per quello che è e apprezzarlo per quello che è perché non sarà mai ripetuto. Che anche se la sua quotidianità, tutto quello che fa, è comunque più o meno sempre la stessa routine e c'è anche poi tutta la bellezza del fatto che lui comunque in realtà si capirà poi durante il film senza fare spoiler che lui ha scelto un po' di fare quel lavoro, nonostante sia di famiglia ricca, proprio per godersi questa cosa, questa vita, e godersi la semplicità delle cose o per vari altri motivi, insomma, che ha magari avuto problemi familiari, insomma, varie cose, ma decide insomma in questa fase della sua vita di godersi col suo furgoncino blu, la sua casetta, la sua routine, la sua musica, le sue piantine, la fotografia, il lavoro, fa la sua routine ed è proprio una persona felice. Vedi dei momenti in cui magari ha delle persone attorno, gli fanno magari degli sbuffi oppure lo trattano in modo un po' così perché c'è gente ubriaca che va in bagno, varie cose, e tu pensi, ecco, lui ci rimarrà male, è così, invece vedi lui che con un bel sorriso ci ride sopra e questa cosa veramente ti cambia la vita, perché dici, cavoli, guarda, quanto è veramente quello che vediamo, ce lo creiamo noi nella nostra testa. Cioè, noi rispondiamo alle cose veramente in base a se rispondiamo dalla paura o veramente da un senso di amore, di contentezza. Ultimamente sto facendo tante ricerche, proprio sul, vi parlo sempre nei video, per imparare a manifestare, a fare qualsiasi cosa, devi stare bene prima. Quindi stare bene, per poi fare, per poi avere. Ma per stare bene, sto facendo tante ricerche su come stare bene, perché ovviamente sadhana, yoga, la meditazione aiutano, ma sto anche facendo ricerche più scientifiche. Quindi ho capito che tanto è collegato alla respirazione, tanto è collegato all'attivazione proprio del sistema nervoso parasimpatico. Quindi quello che invece di farti stare in fight or flight, quindi sempre attivo, è quello che invece quando sei più rilassato, pronto a digerire, a riposare e a stare tranquillo. Quando sei in quella modalità, sei senza paura, sei più sereno, sei più tranquillo, il tuo corpo va meglio, la tua mente va meglio, sei un po' al tuo massimo potenziale. Creatività, eccetera. E quindi è un po' imparare a stare quella cosa. Sto facendo varie ricerche e sicuramente me ne parlerò. Ma questo è un po' la rappresentanza, no? Quindi questa persona che è un po' in questa modalità. E quindi essendo un po' staccato dalla testa, sei conscio, riesci un po' a rispondere alle cose in modo positivo. Perché ovviamente uno può rispondere in modo ottimista o pessimista, ma è o non è il modo più intelligente per viversi la vita al meglio, rispondere in modo positivo a qualcosa. Perché alla fine l'esperienza di quella cosa la fai tu, dentro di te. E quindi invece che avvelenarti e soffrire di questa cosa, ne crei un qualcosa di positivo. E quindi è bellissimo perché rappresenta proprio il ora. Ora è ora, anche lui lo dice nel film. Ima, na, no, ima wa, ima. Ora è ora. Esiste solo in questo momento, per non essere mai ripetuto di nuovo. Di godersi veramente le piccole cose della vita, della quotidianità, le bellezze e le sottigliezze di ogni giorno. Questo è quello che Komorebi rappresenta. Come dice lui nel film, Ima wa, ima, adesso e adesso, next time is next time. La prossima volta è la prossima volta. Perché ad esempio, girando con sua nipotina, che è venuto a trovarla, a un certo punto gli dice andiamo a vedere il mare o qualcosa del genere. E lui dice la prossima volta. Lei dice ma quando è la prossima volta? Lui dice ora è ora. La prossima volta è la prossima volta. Ogni volta che apre bocca nel film, lui dice veramente cose che sembrano stupidaggini, ma in realtà poi ripensandoci, sono veramente cose molto profonde. Ed è bello quando i film riescono a insegnarti qualcosa così in modo metaforico. Quindi tramite una storia, tramite un personaggio, senza insegnamenti diretti. A volte servono anche quelli, ma a volte anche Komorebi. E anche a un certo punto gli dicono qualcuno si mette, insomma, succede una cosa, un divario con un altro personaggio. E lui fa questo discorso che è di non preoccuparsi, insomma, dei propri pensieri, delle proprie emozioni, tutta questa situazione che ci cremo noi, perché alla fine non è che ha così tanta importanza. Nel grande schema delle cose non ha così tanta importanza. Lascia andare, molla la presa, ma anche, che è un po' quello che fa lui, indipendentemente da quello che fai, dai sempre il massimo. Come lui, lui in realtà pulisce i bagni e in Giappone comunque viene rispettato tantissimo come lavoro, tant'è che nella sua routine quando vanno in soliti bar, eccetera, tutti gli offrono qualcosa, sono molto gentili, lo rispettano tutti perché in Giappone sono rispettosi ed è una cosa incredibile. E lui è la persona che pulisce i bagni nel migliore dei modi. Cioè, anche se in realtà, come dice il suo collega più giovane, non gli cambia niente pulirlo in modo un po' più così perché tanto il giorno dopo qualcuno lo sporca, lui comunque lo fa nel migliore dei modi. Come dice Sadguru, una frase bellissima, non importa veramente quello che fai, importa che se metti il tuo cuore in quella cosa allora qualcosa di bello sicuramente ne esce. Non è quello che facciamo che è importante ma è come lo facciamo. Quindi proprio di lasciare che la vita accada tramite te con tutte le sue sfaccettature belle e brutte. Anche perché belle e brutte in realtà è solo nella nostra testa. È tutto un po' qualcosa che ci creiamo noi, questa situazione di vita ci creiamo noi. E anche un'altra cosa bella che dice ci sono molti mondi, ogni mondo è diverso. Un po' quando parlava con la sua nipotina e diceva ma mia madre o comunque sua sorella insomma mia madre non parla mai di te o parla mai di te insomma c'è tutto un discorso lui dice sì che sua madre cioè sua sorella insomma è benestante è ricca sta ancora in quella famiglia da quanto si è fatto capire e lui dice sì ci sono tanti mondi e il suo mondo è molto diverso dal mio. Fa proprio capire anche la soggettività con questa frase semplicissima la soggettività dell'esperienza personale che in realtà non c'è una verità oggettiva che in realtà la vita veramente noi ne facciamo esperienza a modo nostro in base al nostro condizionamento il nostro karma le nostre emozioni in base a mille cose che quindi questo è il nostro mondo e che la nostra esperienza parte da dentro quindi se noi impariamo a diventare maestri di dentro dentro di noi possiamo prendere la responsabilità e cambiarlo a nostro piacimento ed è un po' quello che si cerca di fare quindi ecco qua ragazzi questo è un po' quello che rappresenta Komorebi mi è piaciuto tantissimo come film vi consiglio sicuramente di vederlo dategli un'occhiata non vi ho messo nessuno spoiler perché in realtà sono uno di quei film in cui la storia non è che conta così tanto è proprio il godersolo è un'esperienza e quella frase mi ha cambiato la vita e spero che possa cambiarla anche voi ciao ragazzi al prossimo video